Tempo fa abbiamo pubblicato un video dove spiegavamo le norme e i rimedi per il caso in cui ci capiti di avere dei vicini molesti che non ci lasciano in pace con rumori che provengano sia da abitazioni private che da impianti industriali. Potete trovare il collegamento al video nel link che compare qui sopra. Oggi vogliamo proporvi una interessante novità in questa materia. Uno dei problemi principali che si devono affrontare in materia di emissioni di rumori è rappresentato dall'acquisizione della prova circa il fatto che i rumori siano di tipo intollerabile e in particolare che superino i parametri che sono previsti dalla legge. Anche di questo aspetto abbiamo parlato nel video che vi ho segnalato prima. Con un'interessantissima ordinanza della Corte di Cassazione del 20 aprile 2021 esaminando un caso che proveniva dalla Corte d'Appello di Trento la Cassazione confermava l'annullamento di una sanzione di tipo amministrativo elevata a una persona che all'interno della propria abitazione privata si trattava in particolare di una cantina posta sotto il piano stradale generava rumori molesti che disturbavano il vicinato in occasione appunto di una festa privata. Su segnalazione dei vicini la Polizia Municipale aveva accertato l'entità dei rumori che provenivano da questa abitazione posizionandosi nelle cosiddette bocche di lupo ovvero sia quelle condotte d'aria che forniscono appunto aria ai locali in posizione interrata. Queste condotte d'aria secondo la Cassazione costituiscono una pertinenza dell'abitazione privata e quindi di privata dimora e come tali in base alla legge 689 del 1981 le forze di polizia non possono accedervi quindi non possono entrare in queste bocche di lupo per accertare dei fatti che siano puniti soltanto con una sanzione di tipo amministrativo che per chiarezza dobbiamo ricordare le sanzioni amministrative essere qualcosa di profondamente diverso da un punto di vista giuridico rispetto invece a quelle che sono le sanzioni di tipo penale. In questo caso la Corte rileva che se la questione fosse stata trattata in modo diverso e cioè non ai fini di elevare una sanzione di tipo amministrativo ma per accertare fatti di reato quali ad esempio il reato di disturbo al riposo delle persone ecco in questo caso la Polizia Municipale avrebbe effettivamente potuto validamente acquisire la prova delle emissioni rumorose e intollerabili e quindi l'accertamento effettuato all'interno di queste bocche di lupo dalla Polizia Municipale avrebbe potuto essere tenuto in considerazione. Ancora la Corte di Cassazione ci dice nella decisione in questione che avrebbe potuto tener conto dell'accertamento compiuto dalla Polizia Municipale pur nelle bocche di lupo considerate pertinenza della privata dimora in caso di causa di tipo civile quindi dove il vicino avesse chiesto i danni a coloro che hanno organizzato questa festa. In conclusione quando riteniamo di essere stati disturbati da rumori molesti è bene che si faccia una seria valutazione preventiva su quale strumento utilizzare nei confronti del molestatore perché come nel caso che abbiamo appena esaminato si rischia di attivare una macchina che alla fine non conduce a nessun risultato come appunto è avvenuto nel caso in esame. E quindi sempre meglio prima di muoversi scegliere attentamente lo strumento che si ritiene più valido attraverso un professionista per decidere come agire e quale tipo di attività compiere. Bene, come sempre aspetto le vostre richieste e i vostri commenti nel video qui sotto. Grazie e alla prossima! Grazie a tutti!